È stato nuovamente ricoverato e attualmente si trova nell'ospedale fiorentino di Oblate, Bilal Mial, il 39enne originario del Bangladesh che lo scorso martedì mattina ha ucciso la figlia di tre anni a Levane. L'uomo, che ieri era stato dimesso dall'ospedale della Gruccia e portato nel carcere di Sollicciano, nelle ultime ore avrebbe infatti avuto bisogno di cure mediche, pare abbia dato in escandescenze. È stato comunque fissato per domani mattina l'interrogatorio di garanzia per l'arrestato, difeso dall'avvocato Nicola Detti, che si svolgerà in videoconferenza. Il 39enne sin ad ora non ha parlato con gli inquirenti, si è infatti trincerato in un assoluto silenzio. Se resta così oscuro il movente del folle gesto, diventa sempre più chiara la dinamica del delitto. I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno ieri hanno infatti ascoltato il figlio e la moglie dell'uomo. Il bambino, di appena 12 anni, ha raccontato di essere stato aggredito per primo. Il padre lo avrebbe ferito alla testa con una lama artigianale. Il bimbo, fortunatamente, è riuscito a scappare cercando aiuto in casa dei vicini. A questo punto il 39enne si sarebbe scagliato contro la piccola, colpendola sempre con la stessa arma, più volte al collo e al mento, non lasciandole scampo. L'uomo, infine completamente nudo e con ancora l'arma in mano, è corso in giardino e si è gettato dentro ad un pozzo tentando il suicidio. Sia la moglie che il figlio hanno comunque raccontato agli inquirenti che quella mattina il 39enne era tranquillo. Non ci sarebbero stati episodi particolari o tali da scatenare la sua furia cieca. A preoccupare l'uomo nell'ultimo periodo sarebbero state le conseguenze economiche che avrebbe potuto avere l'emergenza coronavirus. Mentre gli inquirenti continuano ad indagare sul movente di questo atroce delitto, è stata rinviata l'autopsia sul corpo della bimba che era stata fissata per questa mattina all'ospedale delle Scotte di Siena. L'esame autoptico sarà eseguito probabilmente all'inizio della prossima settimana.